Ci sono tre società di Lega Pro che rischiano di non iscriversi al prossimo campionato. Martedì 20 giugno scade infatti il termine per presentare la fiduzione e la domanda al torneo. Chi rischia tanto è il Siena. I debiti del club bianconero stanno allontanando la squadra del professionismo. Dopo il secondo deferimento e la conseguente esclusione dai play-off, la società bianconera è come sparita nel nulla. E il presidente Emiliano Montanari ha indetto il silenzio. A pochi anni dalla nuova rifondazione, arrivata nel 2020, i toscani rischiano nuovamente di dover ripartire dalle categorie inferiori. Anche il Pordinone rischia di dire addio al professionismo. I ramarri potrebbero ripartire dai dilettanti. Questo è lo scenario più probabile dopo l'istanza di fallimento per il club presentatelo nello scorso mese di maggio. Ore di grande apprezzione in casa Messina dove la trattativa tra l'attuale patroni Pietro Sciotto e Fabrizio Mannino, unico pretendente, non sembra trovare una via di sbocco. Questa mattina il presidente Sciotto ha messo un comunicato in cui ha ribadito la volontà di non iscrivere la squadra alla prossima Lega Pro.